cerato, piombagine No, no, la piombagine non si sposta! Di là dalla siepe, la voce di Anna, la sua vicina di casa, sta rispondendo decisa alla proposta del giardiniere, che le ha consigliato di spostare la pianta in un altro posto. Fabrizio, seduto sui gradini della porta di casa, istintivamente confronta il tono deciso della sua vicina, apparentemente così anziana e fragile, con le continue esitazioni di sua madre, che il giardiniere avrebbe già convinto da un pezzo a spostare piombagine, edera, cavoli e anche tutta la casa. Non voglio assolutamente spostarla, è il mio regalo del giorno! Fabrizio, incuriosito, appena il giardiniere si allontana, passa oltre alla siepe, e chiede ad Anna che cosa vuol dire il regalo del giorno. È il regalo che ogni giorno mi viene fatto. Spesso sono più regali, uno diverso dall'altro. Vedi, se lascio la piombagine in questa posizione, ogni mattina di questa stagione, aprendo gli occhi, la vedo dal mio letto quando mi sveglio, e così la giornata mi fa subito un regalo. Guarda com'è bella, con quei fiori blu e viola. Lo sai che è una pianta che viene dal Tibet? Il Tibet è il tetto del mondo, l'ho studiato. Infatti, è così alto che dall'assù si sente benissimo la voce di Dio, o di chiunque stia là sopra le nuvole. Fabrizio la ascolta perplesso. Allora Anna gli spiega meglio. Quella voce che non si ascolta con le orecchie, ma col proprio cuore. Ma dimmi un po', a te non è arrivato nessun regalo oggi che hai una faccia così mogia e confusa? Fabrizio spiega che è da almeno 15 giorni che deve scegliere le materie facoltative prima dell'inizio della nuova scuola. Ho passato tutti questi giorni a parlare coi professori e coi compagni più anziani e con la mamma che chiede consiglio alle amiche e coi bidelli e... e anche con quello smorf che era qui l'altro giorno, vero? Su, non fare quella faccia. Lo so che pensi che noi adulti non li vediamo, gli smorf, ma non è così. È che spesso facciamo finta di non vederli, per non spaventare i bambini. Ma che ti ha detto poi? Niente, niente, anche perché quando gli parli agli smorf quasi sempre vanno via. E così ora manca solo un giorno all'inizio della scuola e non ho deciso un bel niente. Ma c'è ancora tempo. So da mio nipote Rocco che la scuola comincia fra 15 giorni. Ma io, dice Fabrizio, vado alla scuola sperimentale, che comincia prima e che ha molte più materie. Me l'ha consigliata la mamma, a cui l'ha consigliata il papà di Edoardo. E effettivamente anche Edoardo è contento di farla. Ora però io devo scegliere le materie, non so come. Beh, allora vuol dire che oggi te lo faccio io, il regalo del giorno. E la signora Anna taglia qualche fiore di piombagine e lo regala a Fabrizio. Come se con quel semplice gesto potesse risolvere tutte le sue incertezze. Ma si sa, i vecchi sono sempre un po' strani. E Fabrizio, messi i fiori in un vaso sul suo comodino, finisce il pomeriggio e la serata collegato a internet, a cercare altre informazioni che lo aiutino a decidere. Sua madre, nell'altra stanza, parla al telefono con un'altra delle sue amiche, con una serie di «sì, sì, certo, potrebbe essere una buona idea e che ne dici se cambiassi il colore del divano?» E via di questo passo, un punto interrogativo dietro l'altro, in una cadenza che gli fa venire sonno e voglia di trascinarsi verso il letto. Un sonno agitato lo prende non appena chiude gli occhi. Le voci di tutte le persone che lo hanno consigliato si mescolano nella sua testa e prendono la forma di tanti personaggi, tutti intorno a lui, in una classe di scuola. Qualcuno corre intorno ai banchi, qualcuno si arrampica sui muri, vede la mamma con il suo telefono attaccato all'orecchio, Edoardo con una lente di ingrandimento, il papà di Edoardo che sta costruendo un castello di carte coi piedi mentre legge il giornale, Rocco e Piercarlo che giocano a palla in un angolo, vede i professori della scuola nuova, il professore di musica che gli tira le corde del violino come se fossero elastici e la professoressa di biologia che sta ammaestrando una squadra di formiche e tutti parlano, parlano, parlano. Fabrizio si agita, sudato, allunga la mano verso il comodino e urta il vaso. Alcuni petali di piombaggine cadono giù, nel bicchiere d'acqua che la mamma gli lascia sempre sul comodino nel caso avesse sete. E effettivamente, dopo poco, la sete diventa una vera arsura e Fabrizio beve tutto il bicchiere per trovare un po' di pace nella bocca e nel sogno e si gira dall'altra parte, continuando a sognare. Ed ecco che nel sogno la porta della classe si apre e la bidella, che ha il viso di, ma sì, di Anna, dice con tono di importanza «Tutti a posto! È arrivato il nuovo professore!» e lascia il passo ad una figura alta, dai lineamenti orientali, vestita con una tunica azzurra e viola, proprio del colore dei fiori che gli ha regalato oggi. Il volto è sorridente, ciò nonostante nessuno osa fiatare. Arrivato davanti alla classe, dice «Ho solo tre cose da insegnare. Semplicità, pazienza, compassione. Questi sono i tuoi più grandi tesori. Se sei semplice nelle azioni e nei pensieri, ritorni all'essenza della vita. Se sei paziente con gli amici e coi nemici, ti muovi in armonia con le cose che accadono. Se sei pieno di amore e compassione verso te stesso, porti pace a tutti gli esseri viventi». E il silenzio, che accoglie nella classe le parole del maestro, si trasforma in Fabrizio in un sonno profondo e tranquillo fino alla mattina. «Che notte!» Fabrizio si alza stirandosi e i fiori che vede sul suo comodino lo fanno sorridere. Oggi anche lui ha il suo regalo del giorno. Ma ne ha anche un altro. La sua testa adesso è più sgombra. Tutti i sogni della notte hanno portato via le sue incertezze e quella che sente ora, forte e chiara, mentre va verso la cucina, è una voce che viene proprio dal suo cuore. «Mamma, ho preso una decisione!» e continua sorridente. «Ho deciso che dopo tutto non voglio andare alla scuola sperimentale. Ci sono meno vacanze e più materie. Invece voglio andare a scuola con Rocco e Piercarlo. Sono sempre così allegri quando li incontro al campo». «Ma sei sicuro?» dice la mamma, molto perplessa. «Proprio ieri il papà di Edoardo mi raccontava delle possibilità di lavoro che apre il sapere una lingua in più. Mamma, so due cose con certezza. Che non voglio andare a quella scuola e che è bene che tu vada dalla signora Anna a prendere un tè uno di questi giorni. Magari anche oggi, se puoi». Fabrizio adesso si sente leggero, leggero, come forse ci si sente in alta montagna, anzi in altissima montagna, sul tetto del mondo. Grazie a tutti i nostri spettatori. му appare, grazie a tutti i nostri spettatori Cambia, un po' rim Grazie a tutti.